Degustazioni in crociera, il vino sulle onde 2015, seconda edizione, prima tappa Savona. Oggi per l'occasione abbiamo già sei cantine che metteremo a ferro e a fuoco, le scopriremo insieme, le scopriremo insieme ai nostri giornalisti come Franca Bertani con l'azienda Zeni, con Liliana Savioli, con Ron Sorelli e poi abbiamo l'azienda Bonamico che ci presenta uno Charmat molto elegante, intrigante, piacevolissimo, lo presenterò io, ancora Liliana Savioli che ci presenterà il Borgo delle Ocche, un traminer di Borgo delle Ocche e poi La Fioca, un'azienda di Franciacorta con un saten e un metodo classico naturalmente allettante. Ma non solo, avremo anche un altro schioppettino di prepotto con Mareini che è naturalmente una buona degustazione a tutti e ancora una volta in alto i calici. Grazie a tutti! Grazie a tutti!